amici tecnologici benvenuti in un nuovo video allora questo video ti è stato fornito con la guida per la costruzione dei pacchi batterie 1s parliamo di batterie 18 650 in tecnologia lirio andiamo a vedere qualcosa più nello specifico siamo anche realizzare guide per pacchi batterie più grandi i nostri le nostre guide come sai avendo già acquistato al guida 1s sono pdf con degli schemi consigli molte informazioni ecopratiche su come andare a fare il pacco batterie ma ti diamo in allegato anche è incluso nel prezzo di 9 euro e 90 anche il video che stai andando a vedere per questo video è tutto ciao al prossimo